Segretario, si parla di appalti e di legalità, c'è l'idea della CGL di un protocollo, quali sono i contenuti e qual è la proposta che farete alle associazioni datoriali? Sì, l'idea è partita questa campagna nazionale con il camper che sta andando in giro in tutta Italia, chiuderà a Roma, è partita simbolicamente da Milano, Expo, tutto quello che è successo negli appalti. Noi abbiamo fatto praticamente un report dei dati che riguardano la nostra provincia, tenete conto che nel 2014 di 447 aziende controllate il 58% di queste aziende risulta irregolari e su 2025 lavoratori 447 sono lavoratori irregolari e quindi rappresentano il 22%, mentre il 68% dei lavoratori sono lavoratori non coperti da alcuna assistenza contributiva e previdenziale, quindi sono lavoratori completamente a nero. Se andiamo ad analizzare e quindi a spacchettare questi dati si vede che poi questi numeri salgono molto nel settore degli appalti. Noi ci siamo detti come CGL che negli appalti occorre avere praticamente la trasparenza e soprattutto la legalità. Perché diciamo questo? Perché praticamente, andiamo a dire attraverso questo protocollo, che occorrono delle regole certe e delle regole che permettano a questi lavoratori di uscire da questa zona di crigiore e di nero per emergere nell'alveolo della legalità. Ecco perché per noi è fondamentale avere la presenza al tavolo della discussione delle associazioni imprenditoriali, perché ciascuno per il ruolo che gli compete deve far camminare questo protocollo sulle proprie gambe. I lavoratori degli appalti sono quei lavoratori che io amo definire gli invisibili, perché ci sono ma non li vediamo, perché entrano prima nei posti di lavoro e vanno via prima che ci entriamo noi. Immaginiamo le signore delle pulizie, dei pubblici uffici, oppure le signore che lavorano nelle menze delle strutture pubbliche, nelle menze universitarie, nelle menze scolastiche. Per cui noi attraverso questo camper e attraverso l'iniziativa di stamattina vogliamo dire una cosa, che i diritti dei lavoratori non sono in appalto. Sulle vertenze che riguardano il stagno a me piacerebbe fare un punto della situazione con il presidente della provincia, che ad oggi ancora non ha convocato le organizzazioni sindacali. Non voglio, non oso immaginare che una provincia provi a fare programmazione tenendo fuori quelli che sono i temi del lavoro, pure perché noi abbiamo una grande vertenza aperta sul nostro territorio, che è quella più grande in termini numerici, che è l'area di crisi di Airula. Siccome noi siamo convinti che ci debba essere una programmazione che rilanci la nostra provincia a partire dal tema del lavoro, chiamiamo tutti a responsabilità, inclusi noi, insomma responsabilità, ma il percorso va condiviso, va fatto insieme, e allora sì che potremo andare lontano e allora sì che potremo dire alle nuove generazioni che bisogna sentirsi orgogliosi di appartenere a questa terra.